Ciao a tutti sono Federico di Botmasters, riparazioni gommone e forniture, trovate tutti i prodotti che vedete sempre utilizzati nei video e da noi rivenduti sul nostro store online che è botmasters.it lì trovate anche i nostri contatti, abbiamo anche la pagina Facebook, Botmasters, riparazioni gommone e forniture, Nautiglue Italia, insomma ci trovate un po' ovunque allora oggi faccio questo video perché è un argomento richiestissimo e anche vedo molto trattato sui forum di Facebook quelli che riguardano gommoni, apnea, pesca soprattutto, tanto vedo e poi soprattutto ci sono tante richieste sempre via mail o telefonate insomma dal nostro servizio clienti per persone che giustamente si vogliono rinforzare l'argomento è rinforzare i tubolari di un gommone da lavoro adesso da lavoro intendo un gommone da pesca, un gommone per gli apneisti, un gommone per i sub, scuole di sub gommoni da lavoro per lavori in porto o anche sul lago, chi mette le boi, insomma che tira, cime, sfrutta i gommoni in maniera gravosa quali materiali utilizzare? vedo sempre che Sonia mi dice che chiedono sempre prima di comprare il materiale, la colla, chi fa il fai da te che è in grado di fare questo lavoro chiede sempre che materiali devo utilizzare per il tubolare consumati oppure non bisogna mai arrivare a quel punto lì però si può fare anche a quel punto ovviamente cerchiamo di prevenire, se abbiamo gommoni vediamo questo qua, adesso vediamo un attimo questo gommone qua questo è un gommone da pesca, tra l'altro saluto l'amico Gian Claudio ha voluto mettere tutto questo rinforzo di military carbon su tutto il gommone come vedete lo stiamo ancora facendo praticamente prima c'erano le maniglie, i tenti bene a con corda, tra l'altro molto belli della nuova Marine e lui ha voluto un rinforzo, mi ha chiesto un rinforzo, ma come tanti per poter pescare, per poter sfruttare, per poter anche utilizzare il gommone in maniera un po' anche aggressiva ovviamente questo non vale solo per la pesca ma vale anche per i sub che hanno bombole, zavorre, si siedono sui tubolari questo è un lavoro che dovrebbero fare ci sono già dei gommoni da lavoro che escono già dalla fabbrica con il rinforzo tipo il BVA Pro, tutte le versioni Pro dei gommoni hanno già una striscia larga 25-30 su tutti i tubolari, come anche i militari, l'esercito, i gommoni che nascono proprio dalla fabbrica è una cosa intelligente, quel rinforzo è intelligente perché permette al tubolare di non consumarsi perché anche i noleggiatori spesso abbiamo venduto materiali a dei noleggiatori che hanno le persone che si siedono sempre sui tubolari e i tubolari in pochi anni belli ai lati ma al centro sono logorati, usurati, a tela quindi noleggiatori, sub, tante volte fanno questi lavori adesso così intero è anche diciamo è uno dei modi si possono anche fare delle sedute staccate tra di loro come ad esempio in questa foto oppure tutto continuo, solo una parte, insomma bisogna anche un po' personalizzare poi dipende da cosa uno fa tornando al discorso, questo qui che è un gommone studiato che è stato pensato per la pesca adesso gli montiamo anche i suoi camminamenti con i portacanne si possono montare anche poi i portacanne quelli singoli, separati insomma adesso questo è uno dei tanti non parliamo di pesca qua ma dell'argomento appunto di rinforzare il tubolare perché questa è la zona più sfruttata il tubolare è sempre qua che si rovina soprattutto verso prua questo è il punto sempre più critico nei gommoni quasi spesso in questi gommoni viene fuori la tela e quindi quando si presenta il problema anche se non bisogna arrivare a farlo presentare perché bisognerebbe farlo subito se uno fa un'attività del genere deve farlo subito a priori non l'ho fatto ho la tela fuori se i tubolari sono finiti per tutto i tubolari vanno rifatti se però ho il tubolare buono e una zona usurati posso fare questo discorso con un bel materiale antiscivolo e adesso che vediamo quali sono ed è quello che chiedono sempre ma cosa devo usare allora per rinforzare i tubolari in genere anche per estetica soprattutto si utilizzano dei materiali antiscivolo non si vanno a usare i materiali della stessa costruzione del gommone liscio perché sta anche male sembra una toppa liscio su liscio quindi andiamo a scegliere un colore adatto che sta bene in tinta con il bottazio con delle grafiche che abbiamo e in genere si utilizzano vabbè questi gli antiscivolo sono i perlage ma sono ancora poco diffusi sono puntinati e diciamo il re ancora indiscusso i perlage sono belli però ancora poco diffusi ecco vedete come è la trama questo qui è bellissimo è appena uscito l'honeycomb guardate che bello a nido d'ape grigio questo è veramente bellissimo comunque i più utilizzati fino ad oggi sono i carbon quindi c'è anche l'antracite che è uscito nuovo l'antracite quasi nero il blu carbon il cappuccino cioè il marrone cappuccino l'off white con bianco caldo è uscito nuovo anche l'ice white che prima non c'era fino a qualche mese fa non c'era l'ice white c'era solo liscio l'ice white carbon e anche novità c'è sempre carbon l'artic grey che non esisteva neptun grey military grey c'è grigio scuro black che è nero ecco questi sono i materiali fino adesso utilizzati oppure anche il fabric impression ecco facciamo una carata che è bellissimo soprattutto nella pesca li usano eccolo qua fabric impression forse in un pezzo che è impressione tela sembra proprio telato vedete è bellissimo questo qua ci sono anche qua tanti colori sono veramente bellissimo tessuto fabric impression vedete ecco questo è un pezzo di fabric impression sarebbe sarebbe stato bene anche il fabric impression però c'erano per dire qua c'erano già degli anelli in carbon military quindi mi sono un po' adeguato al colore però se non ci fossero tutti questi anche il fabric impression bellissimo sarebbe stato bene quindi materiali per rinforzo sempre antiscivolo con questa trama che dà anche un look aggressivo e non i lisci fabric impression carbon e il perlage però purtroppo il perlage ancora non ha preso bene piede nel settore oppure ecco questo è diciamo i materiali i padroni del rinforzo e per gommoni da lavoro altrimenti come anche in questa foto guardate qui ecco sempre che è più economico più sbrigativo meno d'effetto ma molto molto utile e anche questo lo utilizziamo come vedete qui la croce rossa o la protezione civile si utilizza molto soprattutto sui gommoni da lavoro per protezione perché la piattina è spessa in gomma e la piattina rigata che facciamo fare noi bellissima in off white quindi in bianco caldo in neptun grey come il bottazzo quindi si è sempre abbinato il bottazzo maniglie colore oppure in nero questa piattina salva spesso e volentieri situazioni di usura adesso mettiamo che non ci sia anzi andiamo un attimo lì spesso lasciamo perdere che non fate conto che non ci sia il rivestimento scegliamo una piattina che più o meno i colori sono sempre quelli che vada bene col nostro gommone e la carteggiamo la piattina in gomma va sempre carteggiata e carteggiato il tubolare va beh questa e stendiamo una bella piattina o singola che questa tra l'altro curva anche facilmente quindi fa si riesce a andare curvo molto tranquillamente oppure doppia che è bellissima come in questa foto doppia dà un bellissimo effetto perché la piattina è da 11 quindi da 22 che è più o meno la misura utilizzata già anche di fabbrica da alcune da alcuni marchi escono già così con la piattina tutto il gommone liscio ma con la piattina rigata al centro quindi si può mettere anche solo la piattina che è il lavoro più economico per tutto il gommone o sulle parti che so sulle discese sulla salita sulle risalite insomma dove ci serve proteggere si possono utilizzare dei pezzi di materiale di neoprene oppure la piattina rigata certo che per dire in questo caso vedete questa linea c'erano le maniglie e i tinti bene a corda dopo li vediamo e quindi a volte mettere anche queste sedute comporta per quello che poi diventa più difficile una lavorazione cioè di spostare gli equilibri delle maniglie scollare spostare per poi fare spazio alle sedute quindi non è sempre così facile fare questo lavoro però si può ideare anche delle forme belle anche geometriche che abbelliscono il gommone allo stesso tempo proteggono oppure riparano nei casi di tela fuori che vedo spesso sui forum ho la tela fuori davanti lì ci va una bella seduta non il tessuto liscio l'820 che si vede sotto perché anche questo è importantissimo i tessuti perché noi utilizziamo i carbon o il fabric impression perché sono spessissimi sono il 1670 cioè l'866 che camuffa tutte le imprecisioni camuffa la tela camuffa l'imprecisione di carteggiatura se voi utilizzate i materiali più economici che vedo in giro delle robe allucinanti tipo l'820 il 215 che costa 40 euro al metro si è vero c'è risparmio ma poi se c'è un capello sotto si vede e viene tutto a buccia d'arancia non esiste proprio quindi solo 866 spesso che è il più spesso di tutto e con la trama carbon o una trama particolare che camuffa le imperfezioni ecco quindi piattini rigate che trovate sul sito al metro singola o doppia se ci sta doppia bellissima oppure i materiali che abbiamo visto prima ecco oppure un'altra diciamo soluzione può essere come in questo caso varie sedute vedete questo è un gommone liscio completamente liscio rovinato perché è stato usato per gli operatori che mettono giù le boe qua al lago dalle nostre parti che con tirando su i palloni di gonfiaggio per sollevare roba sott'acqua cime hanno sfregato tutti i tubolari erano veramente rovinati e abbiamo fatto un lavoro diciamo adeguato per il tipo di lavoro che serve il gommone certo non è un gommone da diporto però è un gommone che ha la sua funzione cioè quello da lavoro e deve essere rinforzato per la sua funzione vedete sono tutte sedute carbon e adesso questo era tutto liscio completamente verde è montato anche i camminamenti anche in questo caso insomma è un gommone da lavoro adesso la sua funzione vediamo anche la piattina davanti vedete anche qui è stata applicata con la piattina che vedevamo nell'altro video di protezione che va bene un po' ovunque per proteggere i tubolari semplici anche da utilizzare nera come abbiamo visto niente questo era per fare un discorso generale a tutti visto il grande interesse sull'argomento e le grandi richieste magari poteva far comodo anche un po' tutti non più singolarmente noi rispondiamo sempre singolarmente compra questo materiale devi fare così oppure portalo qua questo magari può essere utile a tutti quanti a tutta la comunità dei gommonauti apneisti sommozzatori sub scuole di vela che devono sempre è meglio rinforzare perché ecco l'ultima cosa i gommoni da nuovi sono bellissimi tutti puliti lisci perfetti però non sono fatti per essere distrutti perché vengono distrutti come gommone da lavoro da pesca da noleggio anche i noleggi i noleggi la gente alla fine non ci bada proprio al gommone non è il tuo ho visto noi lavoriamo per i noleggi e sono sempre distrutti fate un bel rinforzo al centro tubolare con la piattina o con il carbon o con un bel materiale e vi salvaguardate i tubolari per anni non vengono devastati ecco qua va bene ci sentiamo al prossimo video un carissimo saluto a tutti e alla prossima ciao ciao